Per la rubrica strumenti per fare impresa, in questo primo episodio parleremo dell'analisi SWOT. Parleremo di definizioni, andremo ad analizzare l'acronimo parola per parola e alla fine del video faremo un'analisi completa riguardo un brand di abbigliamento. Così facendo, raggiungendo la fine del video, sarai capace anche tu di creare una tua analisi SWOT. Iniziamo con una prima definizione, come ho già detto. Cos'è realmente un'analisi SWOT? L'analisi SWOT è uno strumento di gestione strategica. Uno strumento che va ad analizzare i punti di forza, i punti di debolezza, le minacce e le opportunità di un progetto, di un'organizzazione. Ma perché dovresti utilizzare e conoscere questa analisi? Dovresti utilizzarla per tre motivi fondamentali. Il primo punto è la pianificazione strategica. Attraverso questa analisi riuscirai a creare una pianificazione strategica per portare avanti il tuo progetto e far sì che possa essere un progetto di successo. Il secondo motivo è che, attraverso l'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, delle opportunità e delle minacce, andrai realmente a rispondere alle sfide che avvengono internamente e esternamente al progetto. E il terzo motivo, infine, è la comunicazione. Perché attraverso l'analisi SWOT riuscirai a comunicare quello che realmente vorrai fare e attuare con questo progetto. Per capire meglio tutto questo processo e tutte queste definizioni, che sono prettamente teoriche, andiamo nella praticità andando ad analizzare la parola SWOT. Andiamo quindi ad analizzare l'acronimo. L'acronimo SWOT è formato da quattro diverse parole, inglesi. La S sta per Strengths, la WB sta per Weaknesses, la O sta per Opportunities e T sta per Treats. Andiamo subito a separare questo acronimo in due differenti gruppi. Andiamo a parlare di un primo gruppo che avrà una valenza interna e un secondo gruppo che avrà una valenza esterna. Nel primo gruppo ritroviamo la S che sta ad indicare i punti di forza del nostro progetto. La seconda parola invece andrà ad indicare i punti di debolezza del nostro progetto. Nel secondo gruppo andremo ad analizzare le opportunità e le minacce che possiamo raggiungere o avremo attraverso questo progetto. Opportunità e minacce che troveremo quindi in una valenza esterna. Per capire meglio tutto questo andremo ad analizzare parola per parola questo acronimo. Partendo quindi dai punti di forza. Andando a parlare dei punti di forza, quindi della Strengths del nostro progetto, andiamo realmente a trovare, attraverso questa analisi, i punti fondamentali, le cose che abbiamo e che il nostro progetto ha che fanno sì che questo progetto sia diverso dagli altri in positivo. Quindi, le possibili domande che dobbiamo porci per poter creare questa analisi saranno queste, ad esempio. Queste sono solo tre domande. Ho messo tre domande per ogni singola parola di questa analisi. Una prima domanda può essere quali sono le risorse uniche e distintive della nostra organizzazione? Quindi quali sono quelle risorse che la nostra organizzazione, il nostro progetto ha che fanno sì che distinguono il progetto, il nostro progetto, da un progetto di un altro competitor? Un'altra domanda che possiamo farci rispetto ai punti di forza del nostro progetto può essere quali competenze chiave possediamo? Quindi quali competenze fanno sì che possiamo differenziarci da un altro competitor dello stesso settore? Un'altra invece domanda, un'altra terza domanda che ti ho mostrato all'interno di questo PDF è quali sono i nostri punti di forza nella reputazione del marchio? Per capire meglio come poter rispondere a queste domande partiamo subito da un esempio pratico. In questo esempio andremo a creare un'analisi SWOT per un brand di abbigliamento. Come vedi ho già risposto alle prime tre domande della Strength, quindi dei punti di forza. Quindi si parte sempre dai punti di forza. Come abbiamo detto, una prima domanda era quali sono le risorse uniche e distintive della nostra organizzazione? Un esempio di risposta può essere utilizzo di materiali di alta qualità e sostenibili. Quindi ritroviamo nei punti di forza l'utilizzo di materiali di alta qualità. Un qualcosa che è un punto di forza perché ci permette di aumentare il prezzo, ad esempio, del nostro prodotto. Ci permette di distinguerci dai competitors che potrebbero creare sempre un brand di abbigliamento ma con utilizzo di materiali di scarsa qualità. E in più la sostenibilità è un punto a favore in qualsiasi progetto perché ci porta una reputazione in base alla responsabilità che abbiamo nei confronti dell'ambiente. La seconda domanda era riferita alle competenze chiave che possediamo. Un esempio può essere l'abilità nella creazione di tendenze di moda. Quindi è un'abilità, una competenza che è solo nostra, che è sola del progetto che stiamo portando avanti. La risposta invece alla terza domanda, che era quali sono i nostri punti di forza nella reputazione del marchio, può essere impegno per la sostenibilità e la responsabilità sociale. Quindi quello che ti avevo accennato prima con la prima domanda. Come vedi, abbiamo sin da subito messo i punti di forza, quello che realmente già possediamo, rispetto all'organizzazione o al progetto che stiamo mandando avanti. È un qualcosa di molto pratico. Passiamo ora ai weaknesses, ovvero ai punti di debolezza. Per andare ad analizzare i punti di debolezza, le possibili domande possono essere ad esempio Quali risorse mancano o sono limitate per il nostro progetto? Dove manchiamo di competenze rispetto ai nostri concorrenti? E in più, un'altra domanda può essere, ci sono processi interni che possono essere migliorati? Andiamo quindi subito a rispondere. Quali risorse mancano o sono limitate per il nostro progetto? O quali sono le risorse che non abbiamo? E un esempio di risposta, di una prima risposta è, limitate risorse finanziarie per investimenti. Tendo queste risorse limitate, abbiamo sicuramente nel futuro, rispetto a dei competitors, una possibilità di investimento e quindi una possibilità di ricerca e sviluppo, di miglioramento del brand, inferiore rispetto ad altri competitors che, ad esempio, queste risorse finanziarie le hanno. La seconda domanda a cui dovremmo rispondere, ad esempio, è Dove manchiamo di competenze rispetto ai nostri concorrenti? Una risposta potrebbe essere, ad esempio, competenze digitali meno sviluppate nei social. Come vedi, in questo gruppo stiamo andando sempre a definire sempre più quello che realmente manca al nostro progetto, rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Per andare a capire questa differenza, possiamo andare ad analizzare la seconda risposta che avevamo dato prima, nei punti di forza, e la seconda risposta che abbiamo dato ora, nei punti di debolezza. Come vedi, prima avevamo parlato di un'abilità del nostro progetto nella creazione di tendenza di moda. Quindi un qualcosa a favore del nostro progetto è un qualcosa che i competitors non hanno. Invece, in questa seconda parte, stiamo andando a dire che il nostro progetto, e quindi l'organizzazione del nostro progetto, non ha delle competenze digitali sviluppate nei social, cosa che però potrebbero avere dei concorrenti. Questo ci farà riflettere dopo, quando finiremo di rispondere alle domande anche dei punti di debolezza. Cosa faremo adesso? Ci sono processi interni che possono essere migliorati? Una risposta può essere efficienza limitata nella gestione dell'inventario. Quindi stiamo scrivendo su foglio, su carta, che abbiamo un problema nella gestione dell'inventario, cosa che un altro competitor potrebbe non avere. Detto questo, abbiamo terminato la parte interna, quindi andando a definire i punti di forza e i punti di debolezza. Con questa prima separazione di questi punti, possiamo subito già dare delle prime conclusioni. Tutto quello che abbiamo scritto in queste due aree, fanno parte della valenza interna, perché sono quel qualcosa che possiamo migliorare internamente alla nostra impresa. Non c'è nessuno che va a definire questi punti di forza e questi punti di debolezza, se non noi. Non c'è nessuno da fuori esternamente che va a mettere mani su questi punti. Cosa che vedremo successivamente. Detto questo, possiamo da subito capire che i punti di forza saranno quelli su cui baseremo tutto il nostro progetto. I punti di debolezza saranno quelle cose che andremo pian piano a migliorare. Ma come andremo a migliorare questi punti? Quindi, limitate risorse finanziarie, competenze digitali meno sviluppate, efficienza limitata nella gestione dell'inventario. Sono tutte cose che si possono migliorare e che dovremmo migliorare per poter realmente competere con gli altri brand di abbigliamento, in questo caso. Detto questo, passiamo alla parte esterna. Nella parte esterna, quindi, ritroveremo le opportunità e le minacce, che avverranno quindi da parti esterne, quindi da soggetti esterni all'impresa. Passiamo subito col parlare delle opportunità. Le possibili domande che possiamo farci andando ad analizzare le opportunità del nostro brand, del nostro progetto in generale, possono essere queste. Ci sono nuovi segmenti di mercato da esplorare? Quali tecnologie emergenti possono essere sfruttate? Esistono partnership o collaborazioni potenziali che possiamo perseguire? Andiamo quindi a rispondere a queste domande, partendo con la prima. Ci sono nuovi segmenti di mercato da esplorare? Un esempio può essere esplorare il mercato dei prodotti ad edizioni limitate. Quindi, nelle opportunità, andremo ad inserire tutte quelle cose che porterebbero a migliorare il nostro brand, che però sono opportunità che avverranno soltanto esternamente, quindi con soggetti esterni. Un altro esempio. Quali tecnologie emergenti possono essere sfruttate? Questi sono tutti esempi. Esplorare l'uso di intelligenza artificiale. Quindi portare all'interno del nostro brand nuove tecnologie che si stanno pian piano sviluppando. Questo ci porta ad avere un maggior successo nei confronti di altri concorrenti, che fanno la stessa cosa nostra. Quindi, se c'è un altro brand di abbigliamento, rispetto al nostro, se noi abbiamo una tecnologia di intelligenza artificiale, questo giova il nostro progetto rispetto a quello esterno di un altro concorrente. La terza domanda. Esistono partnership o collaborazioni potenziali che possiamo perseguire? La risposta può essere collaborare con influencer o creatori di contenuti nel settore della muda, nel nostro caso. Quindi, tutte quelle opportunità, stiamo indicando tutte quelle opportunità che possono avvenire esternamente al nostro progetto. Quindi, andando a dialogare con altri stakeholders. Terminiamo questa parte della valenza esterna con le minacce. Quali sono i comportamenti della concorrenza che ci potrebbero danneggiare? Come possono influenzare i cambiamenti normativi o legislativi la nostra attività? Quali sono le sfide del mercato che possiamo incontrare? Rispondiamo a queste domande e poi poniamo qualche conclusione su questa valenza esterna. Rispondendo alla prima domanda, quali sono i comportamenti della concorrenza che ci potrebbero danneggiare? La risposta può essere prezzi aggressivi da parte dei concorrenti. Quindi, io vendo una maglietta a 20 euro. Un mio concorrente che vende prettamente la stessa tipologia di maglietta vende la stessa maglietta a 18. Quello ci porta ad avere un problema nel prezzo che andremo poi successivamente a dover correggere. Rispondiamo alla seconda domanda. Come possono influenzare i cambiamenti normativi o legislativi la nostra attività? Una ipotetica risposta può essere nuove regolamentazioni ambientali. Come vedi tutti questi punti che stiamo andando a inserire nelle minacce sono punti che non possiamo realmente andare a modificare più di tanto. Nel senso che riguardo ai prezzi aggressivi da parte dei concorrenti sì, potremmo fare un qualcosa ovvero abbassare il prezzo del nostro prodotto rispetto al prodotto del concorrente. Ma quando parliamo di nuove regolamentazioni ambientali ciò che possiamo fare è soltanto adeguarci. E anche nel primo caso noi ci stiamo adeguando a un problema che avviene esternamente. E infatti con la terza domanda quali sono le sfide del mercato che possiamo incontrare andiamo a rispondere attraverso ad esempio eventi imprevisti che potrebbero influenzare la produzione. Quindi tutti quegli eventi che minacciano la nostra produzione e quindi minacciano l'intero ecosistema del brand stesso. Un esempio recente è stato il Covid ad esempio. Attraverso il Covid noi abbiamo avuto un evento imprevisto che ha influenzato la produzione di molti progetti e che ha portato quindi a dover cambiare la strategia pianificata in precedenza. Dopo aver analizzato anche la parte esterna andiamo a porre delle conclusioni. Dobbiamo dire che le opportunità possono trasformarsi in punti di forza proprio perché attraverso l'esplorazione ad esempio del mercato di prodotti ad edizioni limitate oppure l'esplorazione dell'uso di intelligenza artificiale o con la collaborazione con influencer sono tutti punti di opportunità che si potrebbero trasformare se fatti bene in punti di forza del nostro brand. Allo stesso modo le minacce potrebbero diventare punti di debolezza per il nostro brand. Quindi ponendo tutto questo su carta, su un foglio andiamo a creare una vista dall'alto panoramica ovvero andremo a capire quello che potrebbe succedere in futuro così da essere pronti per creare una nuova pianificazione per poter fronteggiare i problemi che potremmo trovarci di fronte. Il video è terminato e come vedi abbiamo dato una panoramica totale di tutto quello che c'è dietro all'analisi SWOT con una prima definizione analizzando punto per punto l'acronimo SWOT per poi passare alla praticità andando a creare una vera e propria analisi SWOT nel nostro caso su un brand di abbigliamento. Dopo questo video sarai anche tu capace di poter creare una tua analisi SWOT su un tuo progetto o per la tua organizzazione. Se il video ti è piaciuto metti like, commenta e seguimi per altri contenuti riguardo a economia, imprenditoria e finanza.